Ho parlato molto dell'importanza di autoosservare le nostre emozioni, i nostri pensieri, per far sì di non farci prendere dall'emotività, dai pensieri ripetitivi nella nostra mente e far sì di ritrovare il nostro centro quando questo viene perso. Ma una cosa molto interessante, ne ho parlato anche in video precedenti, è imparare a coltivare sia l'autoosservazione di noi stessi dal nostro interno e sia l'osservazione senza giudizio del mondo esterno. Cosa significa questo? Quando siamo per esempio in pizzeria, quando siamo per esempio in un bar, iniziare ad osservare i nostri simili. Non confare da stalker, logicamente, non iniziare a fissare una persona e non togliere più lo sguardo da questa. Sarebbe un po' anche imbarazzante per noi e per l'altra persona. Ma osservare i piccoli dettagli delle persone che ci circondano e percepire che cosa sentiamo riguardo a quella persona. Qual è secondo noi il livello di coscienza di questa? Guardiamo come mangia, la velocità con cui mangia, che cosa consuma, il modo che ha di muovere il corpo. La velocità anche del gesticolare, il modo che ha di esprimersi con chi lo circonda. Il tono di voce, se riusciamo a sentirlo. L'argomento, senza logicamente origliare quello che chi ci circonda fa, dice. E attraverso queste informazioni, che ci arrivano attraverso l'intuizione, andiamo a coltivare una cosa molto interessante, che è la percezione dell'altro. La percezione del livello di coscienza, che non è giudizio, non è giudicare come una persona si muove o che cosa mangia, ma è una coltivazione di un senso sottile, un senso dell'anima, che è l'intuizione. Attraverso l'intuizione noi riusciamo a capire a che livello di coscienza un nostro fratello umano è. E ripeto, è privo di giudizio questo esercizio. Possiamo farlo anche mentre camminiamo, per esempio, mantenendo una certa centratura nel momento in cui noi procediamo verso la nostra strada, osserviamo senza, logicamente, di nuovo, fissare per troppo a lungo una persona e cercare di vedere dal modo in cui questa procede, cammina, la velocità, il ritmo del suo passo, cioè la velocità con cui una persona procede. È dettato spesso dalla velocità dei suoi pensieri o il ritmo, l'andatura che una persona ha nel camminare è dettata dall'emozione che quella persona prova in quel momento. Cerchiamo di essere come degli Sherlock Holmes della situazione, cioè cercare di indagare l'inconscio delle persone che ci circondano. E attraverso lo sviluppo di questo senso sottile, che le informazioni poi ci arrivano da sola attraverso l'intuizione, iniziamo ad imparare a come autoosservare i nostri stessi comportamenti involontari, inconsci, che attraverso l'autoosservazione di nuovo devono piano piano arrivare alla coscienza e diventare, arrivare sotto al nostro dominio. È una cosa interessante da fare e soprattutto se avete la possibilità di farlo uscendo o semplicemente andando a farvi una passeggiata, da coltivare. Provate a farlo. È divertente ed è anche interessante, piuttosto che stare seduti al tavolo durante l'aperitivo e guardare il cellulare perché ci si sta annoiando. Grazie.